Un documento in 13 punti per chiedere misure immediate al Governo e alla Regione Puglia a sostegno del comparto agricolo in crisi. La protesta degli agricoltori è arrivata ieri sotto le finestre del Palazzo del Governo in Piazza Libertà a Bari. Al presidio hanno partecipato migliaia di persone che vivono di agricoltura e che si sentono abbandonate dalle istituzioni, anzi vessate, soprattutto con l'estensione del limo ai terreni agricoli, una tassa iniqua da abolire, protestano gli agricoltori. A loro fianco ieri diversi esponenti politici locali. Gli agricoltori si mobilitano in questa giornata che ha chiamato a raccolta Agri Insieme Puglia, CIA, Confagricoltura, Lega Coop, Confcooperative, ACCI e Copagri. Al prefetto di Bari Annunziante è stato consegnato il documento con le proposte e le richieste congiunte per far fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza. Il punto di partenza è proprio la richiesta di cancellare l'immo agricola e poi tempi più rapidi per la riforma della PAC, snellimento burocratico e promozione dell'agroalimentare made in Puglia. Tutto è bloccato senza l'approvazione rapida del programma di sviluppo rurale nella nostra regione, quando la pubblicazione dei bandi più urgenti potrebbe dare ossigeno agli agricoltori, a cominciare da quelli flagellati dall'axilella. Agri Insieme e Copagri chiedono misure urgenti, analisi, riscontri e comunicazioni tempestive per l'emergenza fitosanitaria. Il contagio, stando agli ultimi dati ufficiali che risalgono a novembre 2014, ha interessato 242 olivi su circa 13.500 campioni.